Che forte! Giallo! Ciao, Giallo! No, così sei ancora qui. Che stai facendo? Ordino alle astronavi di colonizzare questo pianeta. Anche io voglio dare ordini alle astronavi. Beh, quando avrai una colonia tua, potrai comandarne quanto vuoi. Allora voglio una colonia. E la voglio subito! Adesso che cosa fai? Sto contattando il comandante della flotta. Lascialo fare a me. Non devi toccarlo! Perché no? Tu comandi tanti mondi e io non ne ho nemmeno uno. Così non è giusto. Ne voglio uno! Voglio un esercito tutto mio! Voglio un pianeta tutto mio! Io me lo merito! Guarda che sono importante quanto te! Allora perché non cominci a dimostrarlo, Rosa?